Nuova dimensione sindacale per la Wiltec in Sicilia, Andrea Bottaro, eletto segretario generale. Andrea Bottaro è stato eletto segretario generale della Wiltec Sicilia ed Area Vasta, la struttura che rappresenta la Wiltec, oltre che a livello regionale anche nei territori di Siracusa, Ragusa, Caltanissetta e Palermo. Nuova dimensione sindacale quindi per la Wiltec siciliana, l'accorpamento della macro area sud-est Sicilia, e la struttura Sicilia-Palermo genera una delle organizzazioni più grandi e importanti della Wiltec, una realtà che dovrà occuparsi della gestione dell'industria siciliana partendo dai petrochimici di Siracusa, Gela e Milano e che dovrà gestire la transizione energetica a livello insulare. In tale contesto la Sicilia avrà un ruolo fondamentale per il contributo importante che fornirà al Paese in termini di estrazione, raffinazione e generazione di energia elettrica, una struttura che sarà gestita dal nuovo segretario generale Andrea Bottaro con un passato da responsabile della macro area. Bottaro lascia l'attuale incarico del segretario organizzativo della Wiltec nazionale dopo aver seguito per la stessa all'intero settore energia siglando i contratti nazionali oltre ad importanti accordi come lo statuto della persona con Enel. Una prospettiva strategica di grado Daniela Piras, segretario generale della Wiltec nazionale, perché dovrà guardare allo sviluppo degli asset industriali dell'intera Sicilia fondamentali per l'economia nazionale. Per questa ragione contiamo su un dirigente che conosce bene il territorio e che ha maturato in questi anni esperienze importanti a livello nazionale. Siamo certi che Andrea Bottaro farà bene impostando un'azione sindacale basata sul supporto di un'economia sostenibile e della tutela del lavoro. La Wiltec crede alla Green Deal ma senza un vero e proprio social deal non c'è futuro. Ripartiamo con tanto entusiasmo da questa nuova sfida dichiarata Andrea Bottaro, neosegretario generale della Wiltec Sicilia e Aria Vasta. Ci attendono sfide importanti e un futuro industriale da conquistare. Possediamo gli asset e le professionalità per trainare l'industria chimica ed energetica del Paese. Dobbiamo conquistare gli investimenti e dare una prospettiva all'industria siciliana. Possiamo candidarci ad essere un hub energetico al centro del Mediterraneo, al servizio dell'Europa.